In via degli umiliati a Ponte Lambro è spuntata l'ennesima moschea abusiva all'interno di un condominio e diciamo che la comunità musulmana che ha preso in affitto questi spazi non si è proprio presentata nei migliori dei modi praticamente ci sono stati danneggiamenti nelle parti comuni, casini a tutte le ore, un via vai di gente che entra, esce, che nessuno conosce il solito schema che abbiamo già visto e rivisto a Milano diverse volte senza che voi viate mai mosso un dito per migliorare la questione anzi avete regolarizzato quattro moschee che erano abusive e avete anche deciso di far realizzare la grande moschea di via Esterle queste sono le parole dell'imam di quella moschea a Milano ecco capisco che all'interno del Partito Democratico siano presenti come dire però forse diciamo che questo è un po' troppo cosa ne dite?